Benvenuti e benvenute alla ventiquattresima puntata di Azure Italia Podcast, il primo podcast interamente in italiano dedicato a Microsoft Azure. Io sono sempre Carlo Sacchi, un Microsoft DevOps Engineer e come ormai molti di voi sanno, questo podcast nasce sempre con l'intento di divulgare tutti quei temi legati al mondo appunto di Microsoft Azure. Lo sappiamo, siamo stati un po' assenti dalle pubblicazioni, ma chi ci segue appunto sui nostri canali social ha visto cosa è successo in questi ultimi giorni, tipo l'Ignite Italia 2024, i web daily seguito dai meetup eccetera, quindi siamo stati un po' impegnati tra l'organizzazione, contenuti e varie cose. A proposito uscirà subito dopo questa puntata uno speciale Ignite 2024, tutte le interviste fatte così a caldo agli ospiti e appunto alle persone che sono intervenute e hanno assistito all'evento. Quindi appunto cerchiamo di recuperare subito perché abbiamo lavorato sempre dietro le quinte, abbiamo messo in cantiere tante nuove puntate che pubblicheremo con un po' più di regolarità, promesso, promesso. Ricordo sempre velocemente come fanno i veri youtuber e i divulgatori del web di seguire i nostri canali social, come ho detto perché come vedete siamo sempre attivi. Prima di tutto il podcast stesso sulle varie piattaforme Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast eccetera, quindi bisogna cliccare il tasto follow segui per non perdervi mai nessuna nuova puntata. Se volete anche mettere una recensione con le stelline che vedete è veramente ben accetta e sappiate che ci fa molto piacere. Continuiamo sempre con le nostre pagine social, l'importantissima ovviamente centro nevralgico come cantava qualcuno, la pagina LinkedIn dove mettiamo tutte le notizie e le pubblicazioni e varie cose, il canale Telegram per scriverci, chiedere informazioni, fare richieste e poi il nuovissimo server Discord che abbiamo un po' ribattezzato Azure Italia Discord per parlarci direttamente nel canale Talk. Abbiamo già fatto un evento e ne programmeremo di prossimi. C'è sempre disponibile ovviamente l'email podcast.ca.azureitalia.cloud e tutti i moduli di contatto per fare un feedback più approfondito, la call for speaker eppure se volete fare delle domande all'ospite che abbiamo avete addirittura due modalità. Uno il question and answer direttamente solo purtroppo su Spotify dall'applicazione telefonica o se no appunto il nostro form che trovate sempre in descrizione come tutti i link che andremo a dire e a citare in questo episodio. Sapete sempre che gli eventi sono per noi molto importanti. Per la serie gli eventi non finiscono mai, è finito uno inizia l'altro. Vogliamo, per chi ascolterà questa puntata in tempo, ma nel caso anche se non ascoltate in tempo segnatevi il calendario cosa è, sta arrivando il Global Azure 2024. Cosa è il Global Azure 24? è una serie di incontri organizzati dalle varie community meetup aziende che si terranno il 18, il 19 e il 20 aprile a livello mondiale. Quindi non importa se state ascoltando questo podcast anche fuori dall'Italia, sappiamo che abbiamo un 10% più o meno di ascoltatori che arrivano da tutto il mondo, potete andare sul sito globalazure.net e cercare quello più vicino a voi. Ce n'è anche uno, per esempio, alle Mauritius, quindi se ti trovassi in vacanza da quelle parti potresti andare direttamente anche lì. In Italia ne ospiteremo ben tre, perché tre è il numero perfetto, uno a Milano il 18 di aprile, uno a Torino e uno a Pordenone, entrambi il 20 di aprile. Ovviamente sono sempre organizzate le nostre community come Azure Meetup Milano per Milano, Azure Meetup Torino per Torino e Innova su Pordenone. E infatti l'ospite che abbiamo oggi è proprio uno dei Master e Commander italiani che trovate spessissimo a questi incontri. Per esempio ci siamo visti ieri e l'altro ieri agli eventi appena passati, giusto per dare un senso, un riferimento temporale di quando stiamo registrando questo episodio. abbiamo con noi Massimo Bonanni. Ciao Massimo! Ciao Carlo, grazie dell'invito, è veramente un piacere. Sono onorato perché io vengo dal podcast, anche se è tanto faticoso, quindi ti invidio veramente, non so come fai. Grazie di avermi invitato, è sempre un piacere. Ho delle specie di folletti che lavorano per me. Sì, credo tu abbia trovato il modo di avere le giornate di 48 ore, quindi ti prego, rivelamelo perché altrimenti è impossibile. Ho fermato il tempo, diciamo un po' così. Diciamo che oggi Massimo ti abbiamo preso un po' più dal mondo dev, perché sanno i nostri ascoltatori che di sviluppo non parliamo tantissimo, perché parlando di Azure parliamo più spesso di infrastrutture e operation in generale. Quindi ti abbiamo preso un po' da quel mondo, abbiamo fatto uno shift left, come si dice un po' nel gergo, e da Dev lo ti portiamo un po' nel mondo Ops, non DevOps, magari abbiamo già fatto altre puntate, ne faremo altre, e oggi ci parlerà invece dell'argomento che mia colpa è, non è ancora stato trattato in questo podcast, praticamente l'Azure Storage, che è uno dei praticamente servizi principali, uno dei primi anche a essere nato di Azure, e quindi ovviamente non basta una puntata se vorrebbe un podcast dedicato, Azure Podcast Storage, per esempio, possiamo dargli un nome così. Oggi parleremo un po' più, come magari il titolo avrete già visto, parleremo un po' più specificatamente del blob e di alcuni segreti, che Massimo vuole svelarci, vero Massimo? Facciamo hype, dai, un po' di hype. Esatto, esatto. Allora, come sempre, il format è il solito, io ti do adesso un po' la parola a te, presentati, anche se sei super famoso, e anzi mi hanno detto, ma ambasciatore non porta pena, ci sono persone che stanno ancora aspettando il selfie. Ecco, da Massimo Boranni. Io so chi te l'ha detto, e verrà perseguito, non penalmente perché non è reato, ma verrà perseguito nei dovuti modi e maniere. Ecco, mi diamo la costruzione. Io gli ho dato un suggerimento. Voi alla Christmas Dev, ma anche ai vostri eventi, tu sei di Roma, giusto anche per dare un senso di luogo, fate molti eventi, soprattutto legati al mondo Dev, e quello che mi piace di più tra quegli eventi è una specie di selfie raffle, così, dal quale poi estraete dei premi. Uno dei premi potrebbe essere, anzi forse il più ambito, è proprio il selfie con Massimo Boranni. Non ti ci metterà anche tu, però. Dai, no, devo dire, devo dire, non è merito mio di quegli eventi, è Luca, lo conoscono in tanti, vorrei spezzare una lancia, e visto che mi ha messo in mezzo col selfie, spezzerò anche un braccio, ho visto quando l'incontro. E no, e devo dire che, non so come fa, anche lui ha trovato modo di fare, di avere il giornale di 48 ore, perché, sempre pieni, sempre molto interessanti, vabbè, poi mi mette in mezzo, ma ci stia sta cosa, dai, dai, no, io gli avevo detto, ma perché non fate invece del selfie lotteri, fate il selfie bonanneri, una roba così, e uno si fa il selfie, e lei, e lei, e lei mette direttamente Massimo Boranni di fianco, così. dagli anche queste idee qui, perché siccome non ce le ha, siccome non ce le ha, dagliele anche tu le idee, così, è peggio ancora. Rovinata la carriera, una vita, 10 secondi, no, non è vero. niente, ripetiamo, appunto, ti do un po' la parola, presentati, chi sei, cosa fai, e via. Allora, cosa faccio? Chiacchiero, nel senso che, lavoro in Microsoft, sono, in Microsoft ormai da otto anni, negli ultimi cinque, mi occupo di training, sono nel team, tanto per inquadrare l'albero gerarchico di Microsoft, sono nello stesso ramo, di quelli che fanno le certificazioni, di quelli che fanno i learning, impatti, sul portale, sono in quella zona lì, però mi occupo di erogare corsi di formazione, tipicamente, ma non solo, orientati alle certificazioni per customer e partner, in questo momento, ma è contingente la cosa, nel senso che faccio parte di un team, che a questo momento è a supporto di un programma, per le aziende, grosse aziende, grossi partner, che si chiama EASI, EASI, sta per Enterprise Skills, Initiative, ed è il fatto che diamo a queste aziende, la possibilità di seguire corsi gratuiti, sono corsi da, dipende, tre, quattro, cinque giorni, dipende dal corso, sono in questo momento anche corsi da un giorno, quindi molto focalizzati su alcuni argomenti, e poi di fare l'esame con delle scontistiche, in particolare su questi corsi, siamo in due in Italia, io mi occupo della parte dev, della parte architettura, AI e DevOps, quindi siamo in tema, mettiamola così, e chiacchino tutto il giorno, fondamentalmente, dico parole a Vanvera, mettiamola così, questo è il mio lavoro, fondamentalmente. No, non è vero che dici parole a Vanvera, anzi, sono sempre interessanti tutti i tuoi interventi, che potete trovare su YouTube, su LinkedIn, vari ed eventuali, quindi vi invito ovviamente ad ascoltare tutti i keynote speeches, come si chiamano, dipende dal modo, dipende dal come, io ho un po' di confusione, certe volte a descriverli. Domanda classicona, classicona, qual è stata la prima tecnologia o piattaforma cloud, sulla quale hai atterrato, hai iniziato a lavorare, eccetera, eccetera, e quale funzione, quale appunto funzione di Azure, ti piace di più, sempre lavorativamente parlando, o personalmente, qualcosa, non so. Allora, nonostante voi non vedete perché state ascoltando l'audio, io sia bello e giovanile, ho una certa età, e fortunatamente per me, perché ne sono abbastanza orgoglioso, ho sempre lavorato con tecnologie Microsoft, fin dal Visual C, anzi, fino al Visual Beta, da Visual Basic, Visual C++, e ovviamente quando è arrivato il cloud, non potevo che atterrare sul, anzi, innauzarmi sulla nuvola, su Azure, e quindi di fatto, bazzico, come dicono quelli bravi nei peggiori parti Caracas, bazzico il mondo Azure, target token poi, progetti seri, diciamo, dal 2015, ok, 14, però già da prima ci smanettavo sopra. Qual è la tecnologia che mi piace di più? Il serverless, sono, adoro il serverless, perché un po' è la mia filosofia, faccio il giusto, col giusto costo, quindi, non più di quello che serve, non spendendo più di quello che serve, quindi, sicuramente il mondo serverless, quindi le function, event grid, logic app, e lo storage qui non ci sta male, lo vedremo che ci sta abbastanza bene, è, diciamo, la tecnologia che, che mi piace di più, e quindi quella su cui, per esempio, negli ultimi 4-5 anni, ho, diciamo, un po' investito in sessioni e cose del genere, quindi, questo è un po'... Beh, possiamo un po' annoverarlo nel serverless, lo storage, perché alla fine non dobbiamo, non dobbiamo preoccuparci con quello che c'è sotto, mettiamo il nostro file fine, invece, mi noto, mettiamo una funzione al nostro file. Peraltro paghi quello che usi, quindi, in un certo senso, in un certo senso, possiamo, ma, diciamo che, giusto, fammi dire, fammi dire due cose, dice, perché lo storage, ma perché, così, a un certo punto, l'anno scorso, più o meno, mi è venuta l'idea di abbracciare, diciamo, di fare l'avvocato delle cause perse, perché? Perché se vai a vedere le sessioni delle varie conferenze, trovi tutto, che ne so, salti mortali, tribli con Kubernetes, che ne so, volo pindarico con OpenShift, nessuno parla dello storage. Nessuno parla dello storage perché, boh, sarà semplice, boh, perché sarà meno, avrà meno aplomb, perché non orchestra, orchestra, a meno appeal, diciamola così, però in realtà è fondamentale, è fondamentale perché, secondo me, tre sono i servizi fondamentali su Azure, macchie virtuali, rete e storage, e non se ne parla, però ha tante cosine, le vedremo, la vedremo oggi, tante cosine che, a volte, vi fanno svoltare, sia perché vi semplificano la vita, sia perché vi fanno risparmiare, tu hai già affrontato, in alcune altre puntate, il fattore costo, il fattore costo, non è secondario, quando lavorate su Azure, non è mai secondario, quindi, lo sviluppatore, tendenzialmente, che fa? Ah, mi hanno detto che Cosmos, è fichissimo, per memorizzare le cose, usiamo Cosmos, eh, usiamo Cosmos, poi, io vi ringrazio, perché ho famiglia, e quindi, mi fa piacere, che mi pagate lo stipendio, però, ha usato il giusto servizio, per il giusto scenario, quindi, lo storage, onestamente, non viene quasi mai in mente, o meglio, nella stragrande maggioranza di casi, non viene in mente, però, ha tantissime funzionalità, e, e mi sembrava giusto, dargli un po' di risalto, mettiamolo in questo modo. Beh, prima di tutto, i servizi storage, diciamo, che, vanno dentro il cappello dello storage, dentro Azure, sono tantissimi, sono almeno 10 o 11, per parlare dei macro, poi, ogni macro servizio, ha lo storage account, ma comunque, dentro a n servizi, il blob, il file, eccetera, eccetera, poi, ci sono tutti gli altri servizi, quindi, comunque, appunto, è un mondo ampissimo, e quindi, iniziamo subito, a parlare di storage, facciamo la prima domanda, facciamo un po' un elenco, un overview, di, appunto, cosa è, cosa si intende per archiviazione, su Azure, quali sono i principali servizi, a catalogo, riguardante, appunto, l'archiviazione. Allora, perfetto, qui in realtà, c'è tanto, c'è tanto, perché come sapete, Azure ha il concetto di marketplace, quindi, io qui mi limiterò a citare, quelli che sono un po' quelli nostri, Microsoft, però, se aprite il marketplace, di posti, dove memorizzate oggetti, e qui ci focalizzeremo, su servizi, che vi permettono, di fare l'object store, di memorizzare oggetti, quindi, non ci interessano, banche dati, non ci interessano, no SQL, non ci interessano indici di ricerca, ci interessano dei posti, dei servizi, che possono essere usati, per appoggiare degli oggetti, quindi, ce ne stanno un po', beh, lo storage, quello che tecnicamente si chiama Azure Storage Account, è forse il più conosciuto, all'interno, poi vediamo la differenza in dettaglio, ci sono, c'è il concetto di Azure File, di Blob Storage, anche se il nome corretto, sarebbe, Container Service, a noi non piace molto, questo nome, poi vi spiego il perché, ed è quello di base, su questo, sopra, a questo tipo di servizio, per esempio, sono appoggiati i dischi, gli Azure Dischi, che montate, che avete sulle macchine virtuali, in realtà, dietro hanno uno storage, ma quello è un altro modo, di memorizzare dati, da poco, sono stati annunciati, gli Azure Container Storage, che hanno la desinenza storage, hanno la parte davanti, i container, ed è il motivo, per cui non mi piace, quel nome all'interno del Blob, e poi lo riprenderemo, che nascono per essere usati, con i container, quindi come posto di, salvataggio dello stato, di un container, che normalmente è stateless, poi abbiamo ancora altro, NetApp, NetApp Files, un altro servizio, che però ha, diciamo, un, diciamo, usato in migrazione, quando avete, dei meccanismi, NetApp On-Prem, quindi il mondo, e poi potrei andare avanti, perché ce ne sono anche di terze parti, quindi il mondo dello storage, si è parlato di Data Lake Storage, per esempio, giusto, il Data Lake in realtà, è uno storage, sì, è un Blob Storage, con gli steroidi, mettiamolo così, poi magari, possiamo affrontarlo, perché poi, parleremo un attimo, del dettaglio, di come è fatto, un Blob Storage, però voglio dire, di possibilità, ce ne stanno tante, poi è evidente, che una persona, una persona normale, non le può conoscere tutte, però dovrebbe avere, un po', l'indicazione, di quale, è il tool migliore, semplicemente, perché se usi, il tool non adatto, probabilmente, o non hai le performance desiderate, o hai un costo troppo alto, quindi, è importante, sapere cosa fanno, poi, esperti, ci si diventa, quando serve, uno se lo studia, esatto, a massimo, chiediamo a Copilot, così abbiamo messo anche Copilot, in questa puntata, bravo, è tutto c'è, Copilot, è bravo, c'è Copilot per Azure, quindi voglio dire, esatto, esatto, va bene, quindi abbiamo fatto, una specie di overview, quindi, in questo universo, come possiamo, un po', orientarci, diamo un po', linee guida, proprio generali, che vanno bene, non dico sempre, da quali partire, allora, qui, diciamo, ci sono, a parte il fatto che, se andate nel portale architetturale di Azure, trovate tutta una serie di pagine, ci sono per diverse tecnologie, tra cui ce n'è una, come scegliere lo storage, quindi ci sono delle, c'è una sopra di diagramma, lo trovate anche per il load balancer, per la parte computer, ma diciamo, in poche parole, se rimaniamo al concetto di Azure storage, di storage account, è semplice, io vengo dal mondo on-prem, nel mondo on-prem ho un file server, oppure ho un NAS, e quindi, vedo quel deposito, delle robe montato, come se fosse un disco esterno, beh, probabilmente andrò sugli Azure file, che hanno la caratteristica, di supportare i protocolli, SMB, NFS, per montare, non solo, anche REST, quindi adesso ne parleremo pure di questo, e, per poterlo vedere, come se fosse un disco di rete, per esempio, sto creando un'applicazione native, Azure, diciamo, cloud native, e voglio utilizzare, un posto dove, mettere dei, gli oggetti, cominciamo a chiamarli blob, così ci siamo, blob sta per binary large object, banalmente è un array de byte, che per me rappresenta, l'immagine di turno, il pdf di turno, il txt di turno, mi serve un posto dove appoggiarlo, perché poi magari ho la mia applicazione web, che mostra le immagini dell'e-commerce, quindi mi serve un posto, efficiente, poco costoso, e che supporti il protocollo resta, perché quelle immagini diventeranno, dei tag, gli mg all'interno della pagina, e questo è il blob storage, il nome, come ho detto corretto, sarebbe container service, ma a me non piace, perché fa botte con i container, quelli che hanno il nome vero container, quindi lo chiamerò, blob service, anche se quelli, i puristi potrebbero dire, stai dicendo una cosa inesatta, ma a noi ce ne frega il giusto, come dicono a Parigi, e quindi andiamo avanti, se ho per esempio, anche perché comunque container è dentro la, quando uno va dentro il blob storage, poi comunque si ha container, il nome sarebbe questo, però poi dopo ci sono il container storage, container service, i container, docker, capite questo container, la gente va in palla, siccome io tendo per mestiere a semplificare le cose, poi magari non vado mai a spaccare le pitte, ma devo farle capire, quindi da adesso in poi parleremo di blob service, tanto ci siamo capiti, se ho per esempio un prem, un etap file, roba del genere, probabilmente non scelgo nel leisure file, nel blob, andrò su un etap, nel etap file, nell'etap di Azure, quindi ci sono tipicamente, è ovviamente guidato dalla, intanto è guidato dall'architettura, quindi prima uno, dovrebbe essere sempre così, in realtà sappiamo che a volte le tecnologie si scelgono per moda, ma noi non facciamo la moda, non siamo stilisti, siamo architetti o progettisti, e quindi scegliamo per quello che serve, quindi oggi parleremo fondamentalmente dei due, cioè i files, adesso vedremo Azure File, la differenza tra Azure File e Azure Blob, ma è quello, è un object store, la differenza grossa la fa, ci vado in REST, perché magari, come ho detto, c'è un mio sito web che mostra le immagini, o mi serve vederlo come fosse un disco di rete, o un disco esterno, quindi la grossa discriminante è questa. Va bene, allora abbiamo già un po' introdotto, quindi appunto, andiamo più verticali su cosa è Azure Blob, che è il servizio, anche io personalmente, quello che uso mediamente di più, poi magari sbagliando, come magari salterà fuori, facciamo subito un confronto tra Azure File, per esempio, che è già uscito, hai già detto qualcosa, quindi servizi IaaS versus Blob, che magari è un po' più PaaS, non so, io li ho un po' discriminati così, dimmi se ho fatto la discriminazione giusta. Allora, sgombriamo subito il campo, lo storage account è considerato PaaS, quindi siamo del mondo PaaS, perché in realtà voi avete un robo, chiamiamolo sia un servizio, che permette di memorizzare, ma non vi andate a preoccupare della parte delle macchine, dei dischi, voi chiedete ad Azure un servizio e Azure vi dà quel servizio, però al suo interno, come vi ho già detto, esistono potenzialmente quattro servizi, ma noi qui ce ne interessano due, che sono gli Azure File e i Container Service o Blob Service. La grossa differenza è che, dal punto di vista del protocollo di accesso, l'Azure File supporta protocolli, come avevo detto, NFS e SMB, più il protocollo REST, come tutti i servizi Azure. Cioè significa che io, o lo vedo come un disco esterno montato sulla macchina, o ci accedo con chiamate GET, POST, PUT, DELETE, e così via. Dall'altra parte, il Blob Service supporta il protocollo REST, come tutti i servizi Azure, e quindi ci accedo, come vi dicevo, con chiamate GET, piuttosto che POST. in realtà, da un po', anche il Blob supporta un protocollo che è l'NFS, che è un protocollo di tipo file system. La differenza è la versione, la versione dell'NFS, del Azure File, è la 4. qualcosa, adesso, la virgola, io non ricordo come mi chiamo, io sicuramente, eh? l'altra invece è la 3. qualcosa, quindi a livello di security, l'NFS del Azure File è un po' più avanti. Perché il Blob ha l'NFS? Perché il Blob ha la possibilità di essere usato come SFTP, quindi potete usare il Blob Storage come SFTP. Il Blob ha un'altra caratteristica importante che lo fa molto utilizzare in ambienti piccata, è che c'è un magico fleghettino, un checkbox nel portale che trovate scritto Hierarchicalness Space, che sembra una cosa esoterica, quel Hierarchicalness Space è uguale-uguale, perché il programma C Sharp è facile capire che cos'è uguale-uguale, è Data Lake. Cioè, quando voi abilitate quel Hierarchicalness Space, voi trasformate quel Blob Service in un Data Lake. Qual è la differenza? È che Data Lake supporta una serie di protocolli, file system che lo fanno vedere come lo storage per Hadoop, Spark, Sign Apps e via discorrendo. Databricks. Esatto, Databricks. Databricks in realtà dentro ci abbia Spark, io non sono esperto di dati, quindi... No, comunque quando abiliti da Databricks, se non mi ricordo qual è il giro, da lì ti fa andare l'abilitazione appunto da Data Lake che ti fa abilitare, se non sbaglio, da un'altra parte, esatto. Perfetto. Beh, comunque quello è un Blob Storage, non è niente di particolare, è semplicemente che c'è questa abilitazione qui. Per cui questa è la grossa differenza. Perché se parlavi di YAS Pass? Perché l'Azure File, anche se sta all'interno del Pass, che è il Azure Storage, in realtà è un po' considerato amico dello YAS. Perché? perché di solito viene usato insieme alle macchine virtuali quando tu devi sostituire un file server oppure un NAS e per, a maggior ragione di questo, il backup del Azure File lo trovi nello stesso servizio di backup delle macchine virtuali. Quindi per questo che è un po', diciamo, strizza l'occhio un po' al mondo YAS, diciamo, non è uno YAS, attenzione, è sempre un pass, però, in virtù di questo suo utilizzo, strizza l'occhio a quel mondo. Ho capito, ho capito. Il Block è un pass, appunto. Quindi, comunque, immagino ci siano anche delle funzionalità differenti a parte il file, il Azure File e Blob, a parte poi, appunto, come abbiamo adesso un po', abbiamo detto adesso un po', architetturalmente parlando e divisione. Quali sono queste principali funzionalità su cui differiamo? Allora, guarda, il Blob ha tutta una serie di funzionalità relative al data protection, al fatto che il singolo Blob, adesso magari andiamo in dettaglio, ha dei dati accessori che possono essere utilizzati per il business, ha tutta una serie di meccanismi sul pricing, di cui parleremo, cosa che il Azure File ha, ma non così evoluti, ha dei meccanismi di replica built-in e, e quello ce l'ha anche il Azure File, ma anche custom, ha dei meccanismi di analisi serverless, mettiamolo così, che sono in preview, però sono interessanti. Questi gli Azure File non ce l'hanno, perché in quegli scenari per cui gli Azure File non servono spessissimo, quindi in questo senso qua. Anche tutta la parte, se non sbaglio, del Azure Blob di accesso con token generati, eccetera? Assolutamente sì, l'accesso a un Blob Storage lo puoi fare in diversi modi, uno di questi è quello di avere un SAS, SAS, SAS non sta per salute massorata, ma sta a per shared access signature, ed è semplicemente il fatto che se io non ho la possibilità di dare a un identity, a un utente, un ruolo classico di Azure, posso staccare questo token e fargli accedere al singolo Blob, cosa che insomma... Al singolo file. Sì, questo lo fa preferire proprio in virtù di questo per applicazioni tipo web, per esempio, no? Esatto, esatto, che poi personalmente un po' ci ritico perché ci sono tantissime, ci sono tantissime cose da tenere in considerazione per questo, per staccare il SAS, c'è il read, il list, queste cose, ogni tanto, anche qualche collega, non riesco a listare questa cartella, sì, ma l'ho fatto, è un po' tricky certe volte la cosa, non so se me la puoi confermare o... Sì, diciamo che, allora, il SAS, se potete usare, tanto questo è il primo trucchetto, se potete, usare le identity e quindi il role-based access control tutta la vita, cioè, se la vostra applicazione accede a uno storage, fatelo fare con un ruolo sulla identity, se l'utente è un utente del vostro tenant e deve leggere i suoi dati, ma perché staccare un SAS quando c'è, entra, e se l'utente esterno, quello è un SAS, attenzione, quello è un token, quindi quando avete staccato quel token, quel token non c'è scritto perché era, perché era stato generato, c'è scritto solo cosa fa, quindi come tutti i token, se finisce in mano ad un altro, quello fa le stesse cose, quindi attenzione alle credenziali, alle minime credenziali per fare solo quello che serve, il time, che non deve essere due anni, cioè, vorrebbe essere più stessa, esatto, e poi, siccome è firmato, il token è firmato o con una chiave oppure con un identity, ruotare chiave identity per far sì che quei token scadano, meglio ancora, il blob ha la possibilità di avere delle access policy all'interno del, vero, del cittadinoismo e quindi generare token con quello fa sì che se io invalido quella policy, invalido tutti i token, quindi ci sono dei trucchetti, però ribadisco, la prima, la prima, la prima cosa che vi dovete chiedere è, chi accede alla mia, ai dati, sta nel mio tenancy, allora del token non ci penso proprio, vado con i ruoli, perché in quel caso è non solo uno standard, ma è anche un po' più sicuro, insomma, nel senso che... Esatto. Allora, visto che abbiamo iniziato un po' a svelare i segreti da grande wizard, stregone, così iniziamo un po' a elencare questi segreti e appunto anche da titolo qualche useful trick per utilizzare blob. Allora, io mi sono, nel mio personalissimo cartellino, come avrebbe detto un noto commentatore da revisione di quando ero giovane, quindi potete immaginare quant'anni c'ho, mi ero segnato quattro cose importanti, la prima, siamo tutti interessati alla protezione del dato, no? Il dato, se qualcuno lo cancella, lo modifica, lo ruba e cose del genere, è un problema, e quindi tutta la parte di data protection. Allora, lo storage account ha un meccanismo di backup esterno, ma al suo interno ha dei meccanismi di soft elision, soft elision significa che se lo abilitate di default è abilitato per sette giorni, se non sbaglio, potete disabilitarlo, ovviamente dipende dallo scenario, potete cambiare la durata di questa soft elision, che cos'è? Banalmente è il cestino dell'immondizia. Quando cancellate un blob o un container, lo potete abilitare su tutte e due, quello non viene effettivamente distrutto, ma rimane in un limbo recuperabile per un tot di giorni. Quindi questo vi dovrebbe proteggere dalle cancellazioni accidentali, perché? Perché se io l'ho cancellato involontariamente e poi dopo vado a cancellarlo di là, non è tanto involontario. Quindi soft elision vi protegge da questo. Il versioning, quando voi sovrascrivete lo stesso blob più volte, se l'avete abilitato, potete mantenere le singole versioni e quindi potete tornare indietro. Ce n'è un'altra che pochi conoscono, che si chiama change feed, cosa fa il change feed? Quando lo abilitate lui si crea un container all'interno dell'elenco di container, lo riconoscete perché i container di servizio sono quelli che hanno il dollaro davanti e all'interno lui fa un po' quello che fa, permettetemi il parallelo, git, cioè si tiene tutti i cambiamenti che vengono fatti. Quindi ovviamente genera, come vedremo, un costo perché genera delle scritture, genera dei dati, però il tenersi tutti questi cambiamenti fa sì che per esempio voi possiate ulteriormente abilitare una cosa che è il point in time restore, cioè potete dire siccome io ho tutto quello che è successo da un mese a questa parte, torna all'altro ieri, ripristinami la situazione dello storage all'altro ieri e come fa? e si è segnato tutto e quindi torna indietro senza nessun problema. Quindi queste sono funzionalità interessanti e sono built in dentro lo storage, quindi non dovete usarle esternamente. Si possono fare direttamente da portale, dici? Sì, assolutamente, tutto quello che sto dicendo, portale, PowerShell, command line, template, stagista che si mette lì e lo fa, quindi non c'è nessun problema. Da portale potete abilitare, disabilitare, quindi potete cambiare, quindi non è un problema. Per questo ci protegge dai dati, poi avete il classico backup perché capisco che il sistemista se non c'è il suo file di backup non è contento, però diciamo si possono affiancare le tue cose. Dal punto di vista di business il blob che cos'è fondamentalmente? È un array di byte, quindi il contenuto è descritto dal contenuto semantico, quindi se hai una foto ci saranno i pixel, se hai un pdf ci saranno i dati del pdf. Molte volte insieme a questo blob devono viaggiare dei dati. Quel pdf fa riferimento alle fatture, ai report, a quale pcs unit, di quale progetto e come faccio? I blob hanno la possibilità di avere dei metadati associati fino a 8k, metadati non sono altro che chiave e valore, stringa, stringa, e ce li potete aggiungere voi, quindi potrei dire che il blob pdf, quel pdf particolare c'ha document type invoice, magari c'ha che ne so department finance, inoltre a questo esiste anche la possibilità di usare un'altra tipologia di metadati, si chiamano index tag, a cosa servono questi due? Questi fanno sì che quando voi dovete analizzare, elaborare un blob, questi dati viaggiano col blob, quindi per esempio potete fare delle logiche di business, lo vedremo dopo, voi che ne so, fate la cancellazione di un blob, fate in qualche modo, lo ritirate su solo se ha certi tag, ci sono dei meccanismi che possono essere messi i piedi, li vedremo dopo meglio, sono meccanismi serverless, quindi capite che io già mi esalto su questo, però i metadati sono interessanti perché vi consentono di marcare, mettere delle label di business su dei blob, quindi personalizzati. I tagging dovremmo essere già abbastanza per chi usa Azure, il tag già dovrebbe essere abbastanza sì, però per esempio il tag di Azure lo usi per i costi tipicamente, un po' per l'automazione, no? Questo è sul singolo blob, quindi ogni singolo blob, sul singolo blob, sul singolo singolo blob, quindi riesci a ad avere, qual è il problema? Perché io potrei dire, vabbè Massimo, ma è facile, io creo un contenitore, uno per le fatture, uno per i report e uno per, che ne so, gli scontrini, non so, per fare un esempio, è certo, il tag è uno e quando voglio le fatture del finance, le fatture del, come faccio? Crea un contenitore ognuno e quando devo fare tutto, divento scemo, quindi è un modo, diciamo, astratto rispetto al contenitore per fare delle logiche, no? Quindi ti aiuta. Altra funzione interessante, questa pure la conosco, beh, i metadata data protection un po', si conoscono, queste altre due che adesso vi vado a enunciare, venghino signori, venghino, sono un po' più particolari, inventory, a me questa mi entusiasma, cosa fa l'inventory? È semplice, il suo scopo è quello, non lo conosco, non lo conosco, male male, adesso vedrai che ti innamori anche tu, subito, quello che fa è semplice, lui ogni giorno o ogni settimana, sei tu a sceglierlo, ti crea, nello storage, in uno storage che decidi tu, quindi qua in un container che decidi tu, ti crea un file, uno o più file con la lista dei blob che c'hai all'interno del tuo contenitore, il tuo container, ok? Vabbè, che c'ho? Mo faccio, mi faccio un pezzo di codice, mi leggo, certo, se c'hai tre blob è facile, se c'hai un milione di blob, significa che il tuo codice intanto deve girare da qualche parte, quindi stai consumando la CPU, poi deve fare un milione di letture e poi vedremo che come componente di costo la lettura è un componente di costo e poi devi gestire il tutto, quando tu all'inventor gli dici guarda, io voglio tutti i giorni, adesso vi dico i, questi sono i pro, adesso vi dico i contro, tutti i giorni generami questo report e voglio questi metadati, voglio i miei metadati custom, voglio la data di creazione, voglio questo, questo e quest'altro, lui cosa fa? ogni giorno genera un file json che descrive, si chiama manifest, che mi dice quali sono i file csv o apaci, perché, quindi posso scegliere apaci perché, posso scegliere io, o csv o apaci perché, che lui genera, a quel punto ogni volta che lui genera quel file, io me lo posso leggere, quindi sono esattamente, se devo fare delle statistiche sui tag, leggo un file, non mi fai, leggo tutti, tutto il mio storage, un file che contiene un milione, due milioni, quelli che sono, il problema è che decide lui quando lo fa, però parliamoci chiaro, a voi, cioè, quando capiterà mai, che volete l'analisi alle 12.57, a parte il fatto che se cominciate a leggere alle 12.57, non sapete quanto finite, perché dipende dal numero del blog, quindi che siano alle 12.57, che siano alle 10 di mattina, se permettete, questo costa decisamente meno di farlo a mano, che farlo da voi, oltre che c'è tutta la gestione, quindi, questo è molto interessante, secondo me, e poi vi spiego che, a fianco a questo, c'è anche altro che vi permette di automatizzare il tutto, adesso ci arriveremo, quarto oggettino, quarto oggettino, la replica geografica, ma lo storage ha la replica geografica, tutti sanno che lo storage, relativamente, ha una replica geografica, peccato che, quella replica geografica nativa, sia solo con le regioni in pair, quindi, prendete, non so, North Europe, è solo West Europe, bello, eh, ma se la regione, no, la regione in pair non è quella che voglio come secondaria, e non ha pair, e se c'è la regione non ha pair, come non si sono, eh, l'Italia non ha pair, quindi che faccio? e non lo posso usare il built-in, allora esiste una cosa simile, che si chiama Object Replication, voi semplicemente dite, dal sorgente, storage di partenza, questo container, me lo replichi, su quell'altro storage, su un altro storage, container di destinazione, e lui comincia a fare esattamente quello che fa nella replica built-in, ma lo fa tra due storage vostri, ok? Cioè avete un RPO di 15 minuti, esattamente come l'altra, però insomma è configurabile, questa c'è un difetto, questa c'è un difetto, c'è un difetto, il container di destinazione viene messo in sola lettura, però vabbè, se può avere tutto Davide, queste sono molto interessanti, come funzionalità. Beh diciamo che sono quattro punti assolutamente che io ho già dato domani, inizierò un attimino, i primi due erano già un po' più conosciuti, gli altri un po' meno, anche perché, beh, se io mediamente lavoro su West Europe, Nord Italy per cose mie, ma non molto, quindi West Europe, a me i progetti che avevo sempre seguito erano da lì, adesso Nord Italy inizieranno ad arrivare, quindi buono a sapersi nel caso anche per Nord Italy. Ci hai spiegato un po' quali sono appunto questi quattro punti, ma un po' più di pratiche di utilizzo di questi servizi, ci sono qualcosa? Allora, cominciamo. Casi reali. Ci arriviamo, quando voi create lo storage è la prima cosa che fa, a parte dargli un nome che deve essere univo, vabbè, la prima cosa che fate è scegliere del performance style, il performance style che cos'è? Vi dà la qualità, le performance in IOPS del servizio, ce ne sono due, premium e stand. a tutti i premium perché voglio le performance. Allora, intanto dipende, io sono consulente, vengo dal mondo consulente, quindi la risposta è dipende. Il premium ha senso se la vostro, il vostro workload, ha bisogno di fare letture, tante letture con velocità, cioè se avete qualcosa che gira sulla macchina virtuale e dovete leggere e scrivere un database che sta su un blob, su un blob, su uno storage, allora c'è un servizio. Se devo memorizzare le immagini che finiscono sul sito web dell'e-commerce, ma quelle immagini sono visibili dall'utente tramite l'HTTP, che è quasi più lento di quello che faccio io, cioè perché devo spendere tanti soldi in più? Perché in quel caso voi spendete tanti soldi in più per avere un HTTP in mezzo che fammazza le performance, non ha senso, quindi la prima cosa, a volte vedo i performance style scelti al San Faso, come dicono a caso, mettiamola così, prima cosa, sfruttate i metadati, gli index tag, se devo fare ricerche e ottimizzarli, gli index tag sono perfetti, perché? Perché sono pensati per quello, se devo mettere della logica accessoria di business, metadati, avete 8k, 8k sono tanti, sfruttateli, ok, quindi, scusate ovviamente per te c'è la cosa senza, cosa senza, ma sfruttati, no polling ragazzi, no polling, il polling è il male, il male assoluto in generale, per lo storage è il male, perché se, per l'esempio dell'inventor, se voi vi mettete lì e fate il polling, per fare la lettura, polling significa, state rompendo le scatole allo storage, e se tipicamente più rompete le scatole allo storage, più pagate, e in più quella roba gira da qualche parte, quindi c'è deve essere qualcosa sempre che gira, qualcosa sempre che gira, io vi ringrazio, famiglia, ma costa, dice, no ma io la metto su roba e costa poco, sì, ma siccome lo posso fare senza spendere quei soldi, perché devo farlo spendendoli, ok, quindi, è semplicemente, come lo faccio? Beh, c'è il serverless, c'è il serverless, c'è per esempio, molti non lo sanno, molti sì, lo storage emette degli eventi, come la maggior parte dei servizi Azure, per esempio, se qualcuno salva un blob, se qualcuno lo cancella, quando un inventory finisce, viene messo un evento, quindi quando io devo fare l'analisi dell'inventory, ma non mi metto a controllare quando l'ha creato, mi aggancio all'evento di creazione, quando lui lo crea, è bontà sua quando lo fa, io vengo chiamato, parte una function, che legge un CSV, sono buono pure da leggere anche un CSV, pochissimo tempo, e ho fatto analisi con i metadati sul mio, blob, sui miei blob, quindi, è costo minimo, perché siccome gira una volta al giorno, se mettete attaccata una function, quella function rientra nel piano, per esempio, consumption, quindi non la pagate, rispetto a me, non fate gire in continuazione, quindi, no polling, per favore, evitiamo il polling, ok, vi costa, la gestione è pessima. Ci sono anche comunque i tire di hot, cold, eccetera, giusto? Sì, ne parliamo dopo sul tire, sui press, sui pezzi, eh? Vabbè, giusto, giusto, facciamo tutta una bella, eh, ok. Va bene, non mischiamo, non mischiamo. Allora, mi hai parlato proprio di function, che poi, tra parentesi, noi l'avevamo parlato anche in una puntata di Azure, come sfruttare Azure gratis, la puntata era tutti i servizi gratis di Azure, e le function comunque, ce sono un bel po', sono un milione, adesso una cosa così al mese, che sono gratuiti all'interno del piano, quindi se uno fa una function al giorno, non penso che, eh, una function al giorno toglie il merito di torno, è noto. Esatto, e hai appunto, è anche citato, il fatto che genera eventi, bla 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 bla, quindi, eh, l'Azure Blob Inventory, caso tipico, quando crea un elenco di file, viene appunto, viene creato questo nuovo elenco, possiamo noi, da Event Grid, prendere nota, avvisare Azure Function, e se è collegato ad un Arduino, magari farci pure un caffè, se succede un evento o qualcosa di simile, giusto? Eh, però, abbiamo visto, a meno c'è in preview, e questa è proprio una cosa che, anche noi, Massimo, mi hai un po', dato tu l'imbeccata, quando stavamo capendo, di cosa parlare sull'episodio, mi hai detto, guarda che c'è questo, e siamo, sono andato a vedere, eh, appunto, questo Azure Storage Action, che tra benedetti, appunto, è in preview, e non è tanto indicizzato pure, mezzo, all'earn di Microsoft, bisogna cercarlo, in questo momento, quindi, diamo un po', visto che me l'hai detto, cos'è questo Azure Storage Action, e come potrebbe migliorare la cosa, e quando, non so, adesso è in preview, quando è più o meno prevista, un rilascio, allora, che cosa sono le Storage Action? C'è un concetto che è, io definisco un task, un task non è altro, uno storage task, un task non è altro che, una condizione su un blob, e un'azione, in caso in cui quella condizione si verifica, o un'azione, in caso in cui la condizione non si verifica, con la possibilità di non avere, fondamentalmente, un if then else, ok? Alla fine. La condizione potrebbe essere, se un blob, ha un tag di un certo tipo, department finance, allora, boh, spostalo, da qualche parte, oppure cancellalo, oppure, aggiungi un altro tag, altrimenti, fai altro. Semplicemente dichiarativa, voi dichiarate, qual è la condizione, condizione che può essere anche complessa, potrebbe essere avere un certo, finire per jpeg, avere un certo tag, oppure è stato essere creato, cioè, catenando, a una certa data, e ancora, non è possibile fare, roba come regola expression, non so se arriverà, ma ci sono, le condizioni possono essere complesse, e le operazioni da poter fare, nel then, e nell'ends, possono anche essere più dure, quindi, per esempio, qualcuno cancella un blob, io voglio automaticamente, ritirarlo su, magari, solo se ha un certo tag, con un task, su quattro dichiarazioni, perché la condizione è, se viene cancellato, e se ha un certo tag, condizione, l'azione è, ripristinalo. Tipo cancellato, accidentalmente, o, per esempio, se lo dovessi fare, con una function, a parte che, non è così semplice, andare a recuperare, i metadati di un blob, cancellato, ma, supponendo, si possa fare, cosa dovrei fare, dovrei creare, un topic di event grid, una subscription, che parte, che lancia una function, e in C sharp, scrivere una function, che, quando parte, prende, il nome, del blob, di, che è stato cancellato, crea un client, nello storage, e fa land delete, poi dovrei fare in modo, che quella function, abbia un identity, che ha quella identity, che abbia un ruolo, all'interno dello storage, che ci si mette poco, a voglia, ci si mette poco, non è un problema, cioè, ce riesco anch'io, il problema è che, se ce n'avete una, è facile, se dovete gestire, 50.000 storage, e per ognuno, ci deve essere una function, è, insomma, come incesso, un po' più complicato, questo è tutto dichiarativo, è ancora in preview, quindi, potrà subire cambiamenti, è in preview, nel senso che, significa che potrà subire cambiamenti, ma è gratis, quindi provatelo, poi, oh, non vi piace, non lo usate, però, in alcuni casi, semplifica, semplifica la vita, funziona un po' come, diciamo, l'inventory, parte quando vuole lui, nel senso che, non potete, farlo partire, ad ogni evento, ma potete, dirgli, fammelo una volta al giorno, oppure, fammelo nei prossimi, X giorni, con un certo scheduling, quindi, è leggermente diverso, dagli eventi, però, in alcuni scenari, è più che sufficiente, quindi, in realtà, è, un'astrazione serverless, è serverless, è considerato serverless, questo significa che in futuro, il pricing sarà legato alle esecuzioni, come le function, fondamentalmente, non so se, ci sa, o meglio, non è ancora pubblico, se ci saranno, una quota mensile, come succede per le function gratuite o no, non lo so ancora, però, è previù provatelo, tanto, è molto, molto semplice, quindi, poi, se volete, ci vediamo a Torino, a Global, ne parliamo approfonditamente, perché ho, una sessione espressamente su quello, quindi, anticipazione, comunque, appunto, è la buona pratica, anzi, le buone pratiche, che ci ha anticipato prima, e consigliato prima, applicata, appunto, a funzioni, funzionalità, che, addirittura, in divenire, quindi, se uno, già si prepara, con un utilizzo, ottimale, sfruttando un po', tutte quelle che sono, le capacità, e tutte le funzioni, funzionalità, quantomeno, intorno al servizio, vedete che, arrivano al servizio nuovo, che sfrutta, un po', il metadata, di turno, eccetera, e avete già, praticamente, il servizio bello, da provare, senza fare, niente di nuovo. Sì, quantomeno, io un'occhiata gliela darei, perché poi, magari, non fa caso vostro, però, lo sapete, cioè, provatelo, nel senso che, non è che voglio vendere niente, e tanto sarà serverless, quindi c'è poco da vendere, nel senso che, però, io ho, sono strumenti, quindi, quando conosco come funziona il martello, come funziona l'avvitatore, come funziona la, l'elicatrice, non rischio di piantare un chiodo, con l'elicatrice, anche perché non è poi semplice. Va bene, quindi, Azure Start Action, lascerò il link, al documento in preview, così lo andate a vedere. Abbiamo, appunto, anticipato un po' prima, hot cold, eccetera, eccetera, così, anticipato, appunto, l'argomento costi, anche lì, standard, premium, eccetera, una delle ultime domande, che faccio sempre, che faccio sempre agli ospiti, quando si possono fare, tipo, la scorsa puntata, non si poteva fare, appunto, per l'argomento in sé, parliamo un po' di costi, quindi, ovviamente, lo storage ha un suo costo, sappiamo tutti, che magari, ha un costo, ha un costo a consumo, ma, appunto, le letture, magari il trasferimento, verso un'altra regione, può essere impattante, ci sono un po' di cose, intorno da, tener conto, appunto, lot, il cold, eccetera. Allora, parliamo dello storage, del blob storage, come servizio, poi, come giustamente dicevi tu, il traffico uscente, dalle regioni, ha un costo, peraltro, è stato ritoccato, esatto, quindi è stato ritoccato, lo stanno togliendo, se lo sbaglio, credo, in questo momento, in questo momento, la soglia gratuita, di egress mensile, è aumentata, quindi, c'è ovviamente, quello, si, mi pare che si è arrivata a 100 giga, quella è una componente, che dovete valutare, allora, quella componente, ha senso, da valutare, quella dell'egress, intendo, se siete il nuovo Netflix, è evidente, che la stragrande maggioranza, del vostro traffico, è in uscita, quindi, lì la valuterei, se avete quattro pagine in croce, tutte html, ai 100 giga, probabilmente non c'è arrivato, per quanto riguarda lo storage, fondamentalmente, voi avete due costi, nello storage, che sono l'occupazione, dello spazio, banalmente i giga che occupate, e le operazioni che fate, abbiamo parlato prima, di avere due, pricing tiers, performance tiers, che sono lo standard, del premium, ma allora, a spanne, il meccanismo è questo, nello standard, pagate poco lo spazio, un po' di più le operazioni, banalmente, banalmente le operazioni, sono il doppio dell'altro, però lo spazio costa poco, quindi, se avete l'e-commerce, con 100 mila immagini, e quell'e-commerce, è fruito tramite http, tutta la vita, blob storage, standard, perché costa poco, dall'altra parte, pagate tanto, è un fattore, se non sbaglio, è un fattore 10, c'è addirittura, tanto lo storage, tanto lo spazio, paradossalmente, meno le operazioni, perché lo scenario qual è, a me servono, grossi OPS, tanto ne fate tante, indannate, prima o poi pagate, quindi, anche se ne pagate di meno, siccome ne fate di più, in più, il blob storage, ha la possibilità, di sfruttare, quelli che si chiamano, gli access tiers, su ogni singolo blob, quindi, per ogni singolo blob, potete decidere, probabilmente, qual è l'idea, è questa, se io ho una cosa, un blob, un documento, che deve essere acceduto, frequentemente, a me serve, che la valability, di quel documento, sia alta, non voglio ottenere errori, se io ho un qualcosa, che devo tenere lì, ma che probabilmente, nessuno accederà mai, e, mi vengono in mente, i 10 anni, di log, che dovete tenere, perché, la legge ve lo impone, e probabilmente, nessuno leggerà mai, a me, che mi interessa, della valability, mi sta bene, una valability più bassa, che significa, che se ci provo, un milione di volte a leggere, nel primo caso, quello che si chiama, hot, non otterrò errori, o ne otterrò uno, dall'altro caso, ne otterrò un po' di più, ma siccome quello, non leggerò, quasi mai, mi sta bene, però il costo è più basso, ne ci sono quattro tire, cioè, hot, cool, cold, cold è stato introdotto, un anno fa, e archive, la grossa differenza, tra i quattro, è che i primi tre, hot, cool, e cold, sono chiamati, access tire online, perché, perché io, quello che ho messo, in questi tire, in realtà, non li sto spostando, i blob, gli sto dicendo, tu hai questo tire, tu ne hai quest'altro, sul singolo blob, ciò che ho in questi tre tire, sono immediatamente leggibili, cioè, io faccio una richiesta get, e ottengo, nell'archive, invece, il costo è decisamente più basso, facciamo un ordine di grandezza, non lo potete leggere direttamente, dovete prima, muoverlo, oppure copiarlo, in uno degli altri, tre, tire, e poi leggerlo, questa copia dura ore, qual è l'ordine di grandezza, se prendiamo North Europe, prendiamo, 1000 giga, di roba, quindi un tera, in, se non sbaglio, il costo, in otto, è circa 20 euro, 20 dollari, 20 euro, mettiamo, facciamoli in euro, 20, 20 virgola qualcosa, 20 euro, se lo fate in cool, sono 10, se lo fate in cold, sono 3,9, se lo fate in archive, è 0,99, quindi c'è un fattore, da 20 a 0,99, ah, che bello, allora mi metto lì, sposto, allora deve valere la pena, cioè, io so tre immagini in tutto, ma che io le metta tutte in hot, o le sposti in archive, il costo non impatta, perché capite che un tera, la differenza è, 19 euro, se comincio a avere petabyte di dati, e quei dati devono essere tenuti solo, perché qualcuno mi ha detto, li devo tenere 10 anni, beh, insomma, fa la differenza, ok, quindi, certo, certo, come fate a spostarli? Beh, avete tre modi per farlo, come fate a spostarli, verso, perché tipicamente che succede, se esce la nuova serie televisiva, tutti la vedono, tra due mesi, non la vedete più nessuno, quindi è inutile che la tengo in oltre, la devo spostare, no, quindi come lo faccio? Vedi, tre modi, prendete lo stagista di, di turno, lo legate alla scrivania, glieli fate spostare a mano, credo non si possa fare, è quantomeno inefficiente, scrivete un'applicazione che lo faccia, lo fa, quindi si legge, magari usa l'inventory, in realtà non serve, perché esiste un meccanismo che si chiama life cycle management, che cosa fa? Voi definite delle regole, dopo tot giorni che è stato creato, portalo in cool, dopo tot giorni che è stato creato, portalo in cool, dopo tot giorni portalo in archive, potete farlo su la data di creazione, la data di ultima modifica, la data di ultimo accesso, ecco esatto, per questo, per questo però, attenzione, dovete abilitare il feed, il feed change, è un check attivato, è successo, perché non va in archive, perché qualcuno ci accede? Lì le regole ovviamente, le regole vanno fatte bene, ecco per esempio, le action potrebbero essere usate per dire, sposta in questo modo, solo se ha dei tag, quindi non tutto, peraltro anche le regole dell'life cycle, hanno la possibilità di usare gli index tag, per filtrare il comportamento, quindi, e queste regole di life cycle, le potete applicare anche alle versioni, quindi potete dire, le versioni me le porti sempre tutte in, quello meno costoso, l'ultima versione me la lasci, la tieni, su lotto, quindi, usatelo, usatelo se ha senso, capite quantità di ci avete, se ci avete un tera, 20 euro, o 3 euro, non fa questa differenza, ma sicuro che non so i 17 euro che costano, sono i 70 nodi del cluster Kubernetes che avete lasciato aperti, che vi fanno costano i 17 euro, se avete petabyte di dati potrebbe fare la differenza, quindi. Beh, questo assolutamente, assolutamente, la componente storage, appunto, ritornando all'inizio proprio della puntata, nessuno se la fila, però ci sono tante cose da tenere conto, e tante cose che possono essere ottimizzate, perché è vero, un terabyte di dati non fa la differenza, però un terabyte di qua, un terabyte di là, 100 dollari al mese, dipende poi dal progetto, dipende poi da quello che è, comunque, togli il 100 dollari di qua, 100 dollari di virtual machine che le lascia accese di notte, eccetera, eccetera, sono tutto un quadro che comunque tocca di qua, tocca di là, alla fine fa saving. Sì, non gli fa fare troppo saving, che io ho famiglia, no. due puntate fa abbiamo parlato di Cosmenex, però, senti un attimo, Massimo, io direi che un po' le domande le abbiamo esaurite, perché abbiamo fatto le nostre classiche domande, abbiamo parlato di cos'è il servizio, di cos'è il blog storage, abbiamo parlato di costi, abbiamo, ci ha dato delle bellissime, dei bellissimi consigli, e utilissimi consigli, che sicuramente penso che avremo molti ascoltatori, metteranno in pratica, se li mettete in pratica, scriveteci nei commenti, nelle question and answer, appunto, che lasceremo a disposizione. Io proseguirei, appunto, col podcast, andando avanti con i casi d'uso, che chiedo sempre all'ospite, quindi se hai uno o due casi d'uso, appunto, dove, appunto, poter toccare, con la parola, in questo caso, me ne sono segnati due, adesso, due attuali, allora, adesso, se non hai roba legata alle AI, non sei nessuno, quindi uno legato alle AI, e l'altro, se non sei iper scalabile, multiregione, non sei nessuno, perché non hai l'alta disponibilità, l'altro legato a quello. Allora, il primo, in realtà non me lo sono inventato, lo trovate, poi il link, credo, sarà disponibile, lo trovate, è uno delle architetture, uno delle architetture, che trovate nel portale, architetturale, lo stesso che vi ho citato all'inizio, e l'idea è quella, che quando, voi dovete analizzare un'immagine, immaginate la telecamera, che legge la targa della macchina, che passa, quando arriva la foto, deve essere analizzata, ma è estratta la targa, non lo so, è estratta il modello, non so, quello che vi pare, l'omino che saluta, quello che dovete fare, e come lo fate? E non vi mettete in polling, sullo storage, agganciate l'evento, di è stato creato un blob, lo ridirezionate, verso una function, che chiama un vision, un vostro modello di machine learning, e poi scrivi i dati in un cosmos, per esempio, questa roba come? Semplicemente, quando viene creato un blob, viene emesso un evento, di creazione del blob, Event Grid, Function, e bla bla bla, tutta la prima parte, a parte il fatto che Event Grid, si baga ad operazioni, ma è veramente ridicolo, è praticamente gratuito, poi la chiamata alle AI, la scrittura, quelli hanno i loro prezzi, però tutta la parte, fino alle Function, è serverless, se non arrivano immagini, non cacciate una lira, ed è tutto basato, sul fatto che, lo storage, emette un evento, quindi, questo disegnino, lo trovate nel portale, un altro invece, metteremo a questo link, è un'altra, una sessione, che ho fatto, su una soluzione, multi regione, una soluzione, di erogazione di contenuti, qual è il fatto, è che se voi avete, dei contenuti, e vengono creati, magari in due regioni distinte, come fate, ad essere sicuri, che quelle due regioni, siano isolate, tra loro, dal punto di vista, della vala benedì, quindi, se va giù una regione, questa non impatta l'altra, e se fate in modo, che il front end, di una regione, vate a leggere, dallo storage, e dall'altra parte, siete fregati, perché se l'altra regione, è giù, è quella parte, dello storage, non la leggete, allora, incrociate le repliche, non incrociate i flussi, perché è pericoloso, ma incrociate le repliche, cioè, lo storage, nella regione A, replica, con l'object replication, nella regione B, l'altra parte, la quota parte, creata in B, replica in A, e poi, i front end, leggono, dalla loro regione, tanto se lì, dalla loro regione, e quindi, diceva giù, una regione, siete a posto, perché l'altra, continua a funzionare, che è, ma non replica più, certo, però, è resiliente, perché quello che c'ha, continua a leggerlo, se incrociate, andate a leggere, da un'altra regione, non leggete più nulla, a meno che non ci sia, la replica geografica, però, questo è un meccanismo, di utilizzo, per esempio, dell'object replication, trovate il link, metteremo il link, al mio github, copiate, 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 tanto è scritto male, c'è bella. No, direi, dei bellissimi casi d'uso, appunto, uno che richiama, esattamente, quello di cui abbiamo parlato, e anzi, magari, con l'Azure Storage Function, verrà un po' semplificato, visto che parlavi di Event Grid, o assolutamente sì, quindi, iniziamo da lì, e poi quando saranno, anzi, no, si possono già, scusate, è in preview, però, quando usciranno in definitiva, ci facciamo una, esatto, 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 va bene, stiamo sul finire, della puntata, io ho una cosa, che volevo, volevo ricordare, agli ascoltatori, leisure day, che fate il 21 giugno, se non sbaglio, yes, sto sbagliando, vai, mi pare, mi pare, mi pare, ma hai preso alla sprovvista, così lontano, io già, se arrivo a domani, perché comunque, volevo, ci tenevo anche, a dire questo, questo evento, che non ho ricordato prima, infatti, stanno dicendo, c'è qualcosa, che mi stanno invendicando, infatti, leisure day, perché, è su Roma, e quindi anche per gli ascoltatori, di Roma, quantomeno, centro Italia, per chi vuole, chi volesse, scusate, adesso l'italiano, sai che, purtroppo, lo mettiamo da parte ogni tanto, per chi volesse, partecipare, 21 giugno, 21 giugno, ragione, 21 giugno, eh, ma io, le faccio, sì, pubblicheremo, sì, perdonami la data, non me la ricordo, ce ne sei lì, a parte che sono un po' rinco, perché c'è una certa età, ma non, io, io partecipo, ma non l'organizzo, io ribadisco, merito a chi di dovere, diamo a Cesare, quel che è di Cesare, e a Luca, quel che è di Luca, l'organizzazione di Luca Congio, però sì, 21 giugno, ormai è diventato un must, perché sono diversi anni che, che c'è, sempre sessioni molto interessanti, a parte la mia, quindi, voi sapete già quale non seguire, a parte che non so neanche se la prenderanno, quindi vedremo, non mi ricordo neanche se ho pubblico, ah, peraltro, no, a parte tutto, per il selfie, per il selfie, per il selfie, ma, ragazzi, fate la call for paper, buttatevi, cioè, non posso credere che nessuno abbia un scenario, un caso peloso da raccontare, cioè, non abbiate paura, non morde nessuno, cioè, a me, personalmente, ma anche agli altri speaker, fa piacere vedere facce nuove, per due motivi, uno, perché la competizione, aiuta, cioè, se io devo, se sono da solo, qualsiasi sessione propongo, va bene, se c'ho altri, mi ci devo impegnare, e poi, perché vedere facce nuove, non è male, quindi, andate su sessionize, a parte se lo cercate, lo trovate, magari metteremo il link, mettiamo lì anche il link sulla descrizione, sarà lunghissimo, ho capito di questo episodio, però, lo mettiamo, lo mettiamo, finisce la del for paper, quindi, buttatevi ragazzi, questo non vale solo per Azure Day, ma vale per tutti gli eventi, cioè, fatelo. per tutti, per tutti, ma, da parte mia, anche io invito sempre a farla con il for paper, con il for speaker, anche lì, vari nomi, vari eventi uguali, anche perché, uno pensa di andare a un evento, pensa di presentare un argomento, e, ma lo sanno tutti, no, 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 assolutamente no, esatto, il cloud, in generale, qualsiasi, ormai, di informatica, anche, potrebbe fare il for paper, su come collegare la vastoviglia, a internet, perché comunque, cioè, sono tutti argomenti nuovi, che sicuramente c'è qualcuno che non lo sa, adesso ho fatto l'esempio estremo, però c'è assolutamente bisogno di persone, che vanno lì, si portano, non so, ho utilizzato questo, questo servizio, in una maniera un po' più esotica del mondo, perché mi serviva a fare, e che cavolo, cioè, è assolutamente conoscenza, cioè, è tutta conoscenza che condividere, fa sempre bene, quindi, giusto un tip, giusto, permettimi, è giusto un tip, fatelo, fatela col for paper, però, perdeteci tempo per il titolo e l'abstrat, perché io faccio, no, perché io faccio la selezione, e va sicuro, che quelli che fanno selezione, leggono il titolo, se il titolo non è accattivante, e non spiega quello che deve fare, non viene presa, quindi, lavorate un po' sul titolo, lavorate un po' sull'abstrat, però buttatevi. Vai, vai, assolutamente, facciamo questo appello, in generale. Allora, come ho detto, quindi, il giudice del 21 giugno, poi abbiamo il Global Legion di prima, noi ci lasciamo sempre con le ultime due cose, uno, il giochino, che adesso tra poco lo faremo, e la seconda è, prima, se hai qualche, canale, sito, qualsiasi cosa, da lasciarci, così, da dirci, dove poter andare a, trovare qualcosa, inerente all'argomento, o magari, se hai qualche tuo, prefe, generico, da, guardate, io, allora, il mondo cloud, in generale, Azure, ma in generale, il cloud, è complesso, non tanto perché sia difficile, quanto perché cambia costantemente, quindi, io, personalmente, vado, ho, il mio, RSS, feed, feedly, collegato alla pagina, di updates di Azure, se cercate Azure updates, quella pagina, vi dà, ogni volta che esce un qualcosa, viene pubblicato lì, quello è un RSS feed, alla fine, quindi ve lo agganciate su feedly, ok, per chiamare a voi, e ogni volta che arriva una novità, vi viene pushata, potete anche filtrare, io non sono un dev, quindi la parte infra non mi interessa, non la voglio, però è un modo, e poi dopo, quando c'è l'annuncio, andate dentro, e per esempio, l'uscita delle action, è stata segnalata lì, e così via, quello è il primo canale, poi vi, va, i blob dei singoli product group, piuttosto che darvi il mio, perché poi io magari rimando quello, vi interessano lo storage, cercate, cercate nei vari blob, quello, i blob di Azure, quello dello storage, magari ci metteremo il link, e anche quello, ha un feed, RSS, RSS, ve lo agganciate, e vi seguite, quindi, dopodiché, se volete seguirvi su LinkedIn, benvenga, cioè, molte volte io rilancio queste cose qui, però la fonte, secondo me, quella importante, cioè, chi annuncia le novità, Azure, Microsoft, quindi agganciatevi a quelle. Esatto, il sito di Microsoft, di tutte le news, specialmente, le abbiamo citato spesso, nelle altre puntate, se non sbaglio, anche slash tag, slash argomento, ti filtra già, una cosa del genere adesso, ti filtra già, tutto quello che è relativo all'argomento, quindi, ci sono anche un po' questi trucchetti, dove uno si può mettere, tra i preferiti, RSS, eccetera, eccetera. Io dal canto mio esco un po', dal mondo Microsoft, allora, per di tutto, sicuramente rimaniamo, cioè, rimaniamo nel mondo Microsoft, con tutte le pagine di, di spiegazione del, appunto, del blob, degli storage, appunto, uscendo un attimino dal mondo Microsoft, io sono solito andare sui siti di comparazione, dei vari pricing, dei servizi, c'è quello di Microsoft, ovviamente, il calcolatore, eccetera, eccetera, ma ci sono anche magari app terze, servizi terzi, tipo quello che adesso dirò, che è app.olori.com, appunto, uno spazio, una parte dedicata agli storage, di Azure, ovviamente, e da lì potete andare a vedere un po', agendo sui filtri, agendo con la tabella che un po' salta fuori, a seconda dei filtri che avete applicato, tutti i costi dei vari storage, quanto costano, più o meno, avere un po' un'idea, di quello su cui andate ad atterrare, non so, devo usare 20 giga, 100 giga, un tera, sapete già dove lo mettete, quanto più o meno andrete a pagare. Va bene, lasciamoci col gioco, e con i saluti finali, sapete che, chi ascolta, c'è questo gioco dove, io dico, ti do una definizione di un supereroe, con una definizione di un supereroe, è un nome fittizio di supereroe, sotto in verità esiste, è tratto da un servizio di Microsoft, da un servizio di Azure, scusa, più che altro, e niente, io sfido l'ospite a indovinarlo. Poi, post-produzione, come al solito, metterò la mia solita sigla, chi vuole essere milionario, chi vuole essere Azure, e non so se sei pronto, hai già le cuffie, come tutti gli ospiti hanno. Pronti, pronti. E poi magari, come appunto il tuo famoso presentatore, che forse anche io lo conosco, stai parlando di, di, del signor Mike. Bravo. Esatto, beh, ho vissuto anch'io quell'epoca, quindi siamo a posto. Partiamo, e parte la musica. Definizione del, del supero potere. Prima di tutto, ah, mi chiamo Data Dynamo. Definizione. Nell'infinito oceano digitale, Data Dynamo, Data Dynamo, domina le onde di informazioni, custodendo e recuperando vasti tesori di dati, con agilità e precisione. Il suo regno è un labirinto di contenitori immateriali, dove ogni segreto è al sicuro sotto la sua vigilanza. Chi sono? Beh, beh, allora, ci hai messo i contenitori, il segreto è al sicuro. eh, Glob Storage. Eh, boh, Glob Storage. Direi che, può partire la musica, ci siamo, ci siamo, abbiamo indovinato, bravi, 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 bravi perché tutti lo indovinano, sono troppo setti, devo fare un po' più... anche se il nome credo che sia più orientato a un altro cloud, ma va bene. Ah, beh, sì, questo, Co-Pilot mi ha generato questo. Io do sempre colpa a Co-Pilot, quando scrivo delle cavolate è sempre colpa di Co-Pilot, quindi vai tranquillo, va benissimo. Tanto adesso abbiamo visto che le persone scrivono Co-Pilot, con Co-Pilot manuali, che poi con altre persone leggono con Co-Pilot, sui stessi manuali, ormai stiamo andando non si sa dove, sinceramente, certe cose ormai c'è da ridere. Allora, Massimo, io ti, siamo raggiunti al termine, io ti ringrazio tantissimo di essere stato qua con noi, non so se c'è una promessa, se si può, se la tua agenda lo permette, magari tra un po' di tempo, qualche mese, in autunno, magari si può essere di nuovo ospite, magari fare qualcos'altro, secondo me sullo story, se ti va o su qualche altra, argomento, voi siete il super megaguru, possiamo fare un episodio estraendo un argomento a caso con gli ospiti e sicuramente potremmo parlarne, perché assolutamente siamo a questi livelli, quindi io cerco sempre di portare persone che ne sanno e sicuramente Massimo è uno dei massimi esperti. Io ti ringrazio dell'invito, io mi diverto come un pazzo a fare queste cose, non a caso dal 2010 faccio questo qui, un tempo pezzo, quindi vengo molto volentieri, troviamo non un argomento a caso, magari scegliamo un argomento in cui possa fare qualità, però insomma vengo molto volentieri, mi diverto tantissimo, spero le informazioni di date siano state utili a qualcuno, mi basta che siano state utili a qualcuno, se per me l'ho fatto serata, quindi posso... Esatto, esatto. Va bene, allora io rinnovo l'appuntamento, follow eccetera eccetera, ci sentiamo quantomeno al prossimo episodio, magari ci vediamo qualche meetup, global regione eccetera, quindi io vi ringrazio ancora e ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.